Se si impara a capire la qualità dei numeri, essi si rivelano per quello che realmente sono, cioè dei modelli e dei simboli della creazione. Pitagora, iniziato in Egitto alle discipline esoteriche, insegnava che il numero è l'ultima pietra di costruzione, cioè la radice di questo mondo. Per cui se Pitagora ha fornito alla matematica e, come abbiamo visto anche nella puntata precedente, alla musica dei principi validi ancora oggi, è perché egli considerava i numeri e i rapporti matematici, soprattutto sotto l'aspetto qualitativo, come simboli di una realtà superiore. Proprio questo è il criterio che distingue uno spirito geniale dai suoi seguaci. Per esempio, quando Isaac Newton ebbe scoperto la legge di gravitazione, passò alla traduzione della Bibbia e scrisse, tra l'altro, anche libri sulle profezie di Daniele e l'Apocalisse di Giovanni. Cioè, egli si serviva della legge di gravitazione semplicemente come simbolo? E seguiva quindi il pensiero verticale. I suoi seguaci e successori utilizzarono invece la legge di gravitazione per soddisfare la loro curiosità, quindi dimostrando in questo modo la loro totale mancanza di comprensione. Per cui i numeri, al pari delle lingue, non sono cose pensate e create dall'uomo, ma qualcosa di scoperto dall'uomo. I numeri sono delle qualità primarie delle realtà di ordine superiore, per cui manifestano, se ben intesi, le leggi e i misteri di questa creazione. Cioè, rappresentano il processo di creazione. L'astrologia utilizza i quattro elementi, quindi il fatto che poi i segni zodiacali appartengano agli elementi è un altro discorso, ma viene sempre sottolineato nelle discipline esoteriche più significative, più profonde, viene sempre evidenziato il numero quattro, perché ogni creazione e ogni evoluzione consiste di tre passaggi dove il quarto introduce già una ripetizione della prima triade su un piano nuovo e diverso. Questa conoscenza è nota da molti nell'ambiente esoterico ed è stata espressa in diverse formulazioni, come ad esempio nella dottrina appunto dei quattro elementi dell'astrologia, oppure nel quadrato di Pitagora, nel tetragrammaton dei cabalisti, eccetera, eccetera. E' importante capire che la creazione funziona per triade più uno. E' molto significativo fare un percorso per capire meglio le diverse discipline, perché nonostante utilizzino simboli completamente lontani dalla nostra cultura corrente, hanno comunque a che fare sempre con il numero quattro e quindi, non lo so, partiamo per esempio dall'astrologia, quindi l'astrologia è lo studio dei quattro elementi, fuoco, acqua, aria, terra. In India c'è Theias, Apas, Vujo, Pritivi, di nuovo il numero quattro. Nella magia c'era la salamandra, l'ondina, le silfidi e gli ignomi, di nuovo il quattro. Gli animali dell'Apocalisse, quindi leone, aquila, angelo, toro, di nuovo quattro. Gli evangelisti, Marco, Giovanni, Matteo, Luca, di nuovo quattro. Cambiamo completamente background, andiamo in Egitto, sfinge, zampe di gatto, ali di aquila, testa umana, corpo di toro, di nuovo quattro. I mondi cabalistici, Azilut, Bina, Yezira, Assia, di nuovo quattro. I tarocchi, scettro, calice, spade, pentacolo. Gioco di carte, fiori, cuori, picche, quadri, punti cardinali, est, ove, sud, nord. Quindi tutto quello che parla di creazione, tutto quello che ha un suo valore di inizio e di fine, si appoggia a questo numero quattro. Vedremo più avanti un qualcosa che ci aiuterà a capire meglio questo modello di creazione. Grazie per l'ascolto.